Matteo Richetti, portavoce della segreteria PD, candidato al Senato nel collegio plurinominale Emilia Romagna. Oggi il Movimento 5 Stelle ha le prezze con il caso dei rimborsi. Il Movimento Di Maio respingono le accuse e invitano invece il PD a guardarsi in casa. Come rispondete? Qui il problema non è fare polemica, speculazione o un po' di diatriba elettorale. Qui c'è una cosa gravissima. Per cinque anni si sono erti a paladini dell'onestà. Si alzavano sugli scrani del Parlamento dicendo c'è una cosa su cui noi fondiamo il nostro impegno ed è l'onestà. Si scopre che al di là della tecnicalità del contributo che danno a questo loro fondo, facevano un bonifico, lo fotografavano, comunicavano di averlo fatto per poi cancellarlo. Cioè l'apoteosi della disonestà, dell'inganno. Allora il punto non è capire quanto, chi, come ha versato. Non ci interessa. È capire, può governare il Paese qualcuno che non è nemmeno in grado di dire agli italiani di rispondere dei propri comportamenti, dell'autenticità delle cose che dice di fare. Si mettevano con gli assegni scritti, con l'inchiostro simpatico a questo punto e quegli importi e quell'impegno era assolutamente fasullo. È una cosa molto grave. Se non ci sarà una maggioranza chiara, si parla già di governo di scopo dopo le elezioni, ma Renzi ha detto mai con gli estremisti. Con chi potrà dialogare allora il PD? Siamo un Paese un po' curioso. Parliamo di post-voto durante il voto e durante il post-voto discuteremo di quando si torna a votare. Una cosa alla volta. Ci siamo candidati come PD con una coalizione credibile a governare il Paese. Sottolineo credibile perché la differenza di opzioni è lampante. Di là, sulle proposte fiscali, siamo a flat tax al 15%, flat tax al 23%, niente flat tax ma scaglioni IRPEF-PEN3. Di qua c'è una proposta. La nostra, che assieme a Emma Bonino, Beatrice Lorenzin e la lista insieme di ispirazioni ulivista, sicuramente governare il Paese. Sarebbe poco serio dire cosa si fa e con chi lo si fa il giorno dopo. Io sono convinto che per ciò che sta accadendo in questo Paese le condizioni per avere una maggioranza ci possono essere. Saremo il primo gruppo parlamentare? Mattarella affiderà a noi la responsabilità di costruire una maggioranza? Lo faremo. Ma a quel punto, dovessero esserci condizioni di stallo, è il Presidente della Repubblica e troppo rispetto abbiamo per il suo ruolo per sostituirci a questa funzione. Cioè fare consultazioni e capire se c'è una maggioranza parlamentare per dar vita ad un governo. Uno dei punti centrali del programma del PD è il sostegno alle famiglie. Quali sono le vostre proposte? Intanto per noi si tratta di proseguire un impegno, perché se oggi le famiglie che hanno difficoltà, disabilità, fondo per un'autosufficienza finalmente rifinanziato, dopo di noi per chi vive il dramma del pensare al futuro dei figli che non hanno autosufficienza, insomma per noi si tratta di proseguire un impegno che passa fondamentalmente da due aspetti. Primo, dare un supporto concreto a chi mette al mondo il più grande investimento e patrimonio per il nostro Paese che sono i figli e quindi riordinare il sistema di assegni familiari e di attrazione in un unico assegno che arriva ad essere un importo di 240 euro al mese per i figli a calare fino a 100.000 euro di reddito annuo, quindi 240 euro massimo a calare e sostanzialmente questo rappresenta un aumento di 80 euro a figlio rispetto alle condizioni attuali che vedono assegni e detrazioni. Secondo aspetto, un fondo che accompagna la famiglia nei primi e tre anni di vita del bambino di 400 euro con cui la famiglia decide di attivare i servizi di cui ha bisogno. Ha bisogno del nido? Ha bisogno di un periodo di babysitter? Ha bisogno di un sostegno alla madre che lavora? Ha questo fondo di 400 euro. si uniscono anche le risorse di cui la donna non usufruisce se non accede alla cosiddetta maternità facoltativa, cioè torna al lavoro e invece che perdere quei soldi li mettiamo in quel fondo. Insomma, scelte concrete che non lasciano sole le famiglie in un momento più bello ma anche delicato, quello di accompagnare la crescita dei figli. Il programma parte dalle cose fatte per dire le cose da fare. Quali sono le priorità? Perché la credibilità di candidarsi a fare migliore questo Paese la dà l'averlo fatto in questi cinque anni. Faccio un esempio su tutto, che è quello che mi sta più a cuore. Ci siamo concentrati sulla quantità del lavoro, cioè creare posti, creare occupazione. Abbiamo raccolto l'Italia in una situazione di difficoltà drammatica, di disoccupazione lancinante. Quella disoccupazione si è ridotta ma ora bisogna concentrarsi sulla qualità del lavoro. Qualità del lavoro vuol dire un lavoro retribuito e da qui la proposta di salario minimo garantito a tutti, perché c'è ancora chi sfugge dai contratti di lavoro nazionale attraverso i contratti pirata, le cooperative spurie, le esperienze pagate 2 euro all'ora. È un lavoro che costi significativamente meno laddove sia stabile. E quindi una riduzione di un punto ogni anno, da 33 a 29, 4 punti di riduzione, per il cosiddetto lavoro stabile a tempo indeterminato. Impegni concreti che fanno del lavoro la priorità del nostro programma. Un'ultima domanda. All'interno della coalizione c'è una competizione con la lista di Emma Bonino. Vi preoccupa in qualche modo il risultato positivo che secondo i sondaggi sta ottenendo? Quando la competizione è per vincere non sono preoccupazioni ma sono auspici. Io spero che PD e centro-sinistra facciano un risultato importante. Questo è il senso del nostro impegno. Ci mancherebbe che gli avversari diventassero i nostri alleati. Viva il centro-sinistra italiano!